Seat presenta il restyling per le nuove Arona e Ibiza. Le piccole dei rispettivi segmenti portano in dote un'estetica rinnovata e tecnologia aggiornate per mantenere vivo l'interesse del mercato su due colonne portanti per il marchio spagnolo. A prima vista si nota un carattere più deciso su entrambe le vetture, aggiornate nelle linee graffianti e robuste. Sicuramente lo sguardo è la novità più evidente, accompagnato da paraurti e cerchi di risignati. Al contrario degli esterni che rimangono fedeli al passato, all'interno di Arona e Ibiza troviamo un totale rinnovamento sia per quanto riguarda l'estetica che le soluzioni tecnologiche. Linee pulite e orizzontali per la plancia che aumentano l'impressione di spazio interno e svecchiano lo stile. I rivestimenti sono morbidi e di qualità e comprendono anche la lussuosa pelle di nappa negli allestimenti più ricchi. Al centro della plancia, il display dell'infotainment rimane protagonista, come anche la strumentazione digitale del cockpit, tecnologia ripresa dal gruppo Volkswagen che porta in dote la connettività smartphone wireless e sistemi di sicurezza attiva di secondo livello. 9 Seat, Arona e Ibiza mantengono quindi la spiccata personalità che ha segnato il loro successo, introducendo le novità giuste per rimanere sempre aggiornate con un mondo più connesso e attento all'estetica e con l'ottimo rapporto qualità-prezzo di sempre.